Sono qui ospiti e invece volevo ringraziare Cinecittà World per avermi ospitata e vi porto con noi appunto in questa giornata Siamo ospiti anche a Roma World Praticamente è tutto così E già ci sono venute alcune volte quindi sono ormai abituata ma la prima volta è una gran figata Per di qua troviamo un'attrazione che è fighissima secondo me Non ho ancora avuto il coraggio di farla che sarebbe tronchi letteralmente Quindi quelli lì vanno lì e poi da lì salgono e ti bagni parecchio questa attrazione però è figa Molto figa Davvero fighissima Ecco è altuccio per me parecchio altino Non puoi essere seria Ti sei messa lì apposta Sta arrivando Che pazza C'è la mia amica che si è messa davanti qua dove arriva lo schizzo Cioè si è messa davanti per prenderselo in pieno Una matta E adesso la riprendo Eccomi Prova tangibile Tremano ancora le cattambe No vabbè Regà che cazzo Ne ci ha costretto lei perché sennò io non andavo Mamma No regà voi non avete idea Sotto le mie amiche siamo in Jurassic World Ora vi faccio vedere che c'è questa attrazione Fighissima Guarda che bello Fighissima Guarda quanto è fatto bene quello Fighissima Guarda questo Bello Fighissima Anche quello appeso lì a duro Fighissima Non è stata fila Non c'è un cacco di gente oggi Però non vedo l'ora di fare questa attrazione Non sono sicura di potervi far vedere qualcosa Se riesco Faccio vedere qualcosa Se no Fai ve la racconto Vediamo C'è anche il timer C'è scritto a mettere tre minuti e andiamo Siamo dentro ma non si vede più nulla Siamo in una nuova attrazione Mi sento così sexy Stiamo andando a visitare Non so di chi E' una ricostruzione Che è stata fatta per il film 571 Che è un film americano Nell'unica che ha vinto anche un film Oscar E' stato girato proprio qui dentro L'unica di testa del film E' stato in una nuova attrazione Ehi Oh, qua ci sono i lettini Che figo, ecco C'è anche la sala in cui ci sono tutti gli strumenti, tutti i comandi Tutti quello che si serviva per navigare Oh, qua ci sono i lettini Carine Ok, siamo in pausa, siamo in un ristorantino e ci siamo un bel po' di roba, prendiamo qualcosa. Spero si è divertito nelle fontane. Fatta? Si va qui. Sì, sono tanti che cizzi. Sì, sono che rinca. Ma che figlio. Grazie a tutti. Sì, sono tanti che c'è. Sì, sono tanti che c'è. Oh, c'è Fran che stai. È tutto finto, non c'è Fran. Bella Fran. Cara, non me lo dire nemmeno. È contro la mia amica Lara. Allora abbiamo fatto tutti i contro tutti su questo, ho assolutamente vinto, quasi del tutto asciutta, mentre non vi posso inquadrare la mia amica ma è completamente fracica. No, non vi posso inquadrare la mia amica ma è la mia amica ma è la mia amica ma è la mia amica. ando a presto, un par Datone e la mia amica ma è il width in più a la mia amica ma sportale. Quindi, via no banner e lo parla è la mia amica ma è lì. No, non vi posso impulser la mia amica ma è la mia amica ma è away. troppo troppo rumore ragione abbiamo le scarpe frasciche quindi stiamo prendendo le jaffatele ciao